Bella ragazzi impegnati, costantemente la dino Oggi ragazzi, come avete letto dal titolo, andremo ad allenare Digo Bonora Secondo allenamento per Digo Bonora, quindi lo alleno Oggi con la Myron Linger Sta iniziando a piovere perfetto, quindi muoviamoci E niente, per Digo Bonora Per riscatamento 5 giri di questo campo Quello là, come state vedendo E la parte dove siamo noi adesso In quella parte là Quindi 5 giri a partenza Adesso Fino all'albero, il primo albero che viene Enzo come lo vedi Bonora? Non mi ingatrano, perché oggi non posso Ah, dì, Enzo come lo vedi Bonora? Erichio Erichio? Ok No, non so più Ricordiamo Enzo, il coach di Cristian, vero? Sì, sì Mentre che Digo fai i giri di campo Il tuo giocatore Cristian De Rosa si qualificherà a Panodoro? No Ok Tu ci devi credere Perché è ricchiogo Perché sì Tutti ricchiogo Ultimo giro Non ce lo merita Ma che cazzo stai dicendo? Non ce lo merita Non ce lo merita No Eh, va buono Perfetto E finisce il riscaldamento di Ego Bonora Come stai? Sei caldo? Ah, l'ho saltito Sì Ok Eh, possiamo andare con i passaggi Dentro quella porticina Abbiamo due palle Saranno dieci passaggi Ok Sono pronto Andiamo con dieci passaggi Aspetto Con i dieci passaggi Primo Goal Secondo Fuori 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 Eh no L'hai spregata l'occasione Quinto passaggio Andà a kill Ah, non vai Più vicino Vabbè Quinto passaggio è andato Eh no Troppo vicino là Ha capito che c'è la maglia dell'Inter Dovresti avere i favoritismi Però Non così troppo Vai Sesto passaggio Fuori Inter Per Bara E anche Bonora Bara Non so perché Ma intanto Settimo passaggio è andato E lo fa 3 su 7 Anche qua Anche qua Bari E basta Barrarmi Enzo Ottavo passaggio Fatto Sono 4 adesso Ma come sono 5 Ok Dopo andremo a vedere Nel edit Ma che cazzo dice Non ho cancellato E lui lo Fragma E ruba Anche qua Che avvicina La porta Di mezzo centimetro Eh L'ha messa Puggerita Fuori Quindi Non sappiamo Se 5 6 passaggi Su 10 E se ne va Se ne va arrabbiato Se ne va arrabbiato Perché Giada L'ha lasciato Cioè In verità Non sono mai stato insieme Ma ok Prova a driblarmi Prova a driblarmi Ma non passa Quindi Diego Adesso 5 scatti Voglio Vada a prendere Perché ti lascia Scaldare Devi scaldare Aspetta Vabbè Non ascoltare Sto Scendo E fai 5 scatti In avanti Da qua Dove sono io Fino A quell'albero Lì Ok Vai con il primo Più veloce Torna Velocissimo Perfetto Vai Secondo Ovviamente Adesso Velocissimo Però Sappiamo Che ne hai fatto Uno in meno Perché sei di tre E hai barato Devi fare un altro Guarda E devi fare un altro Vieni Vieni Velocchio Perfetto Complimenti Complimenti Batti Batti Cingue Batti Cingue Perfetto Adesso Dico Buonoro Dovrò fare Due difese Io attaccherò E non la porticina La Dico Sei pronto Sì Una Disappunto Troppo I Batti Non la porticina un ragazzo c***o mio Golioni mie è il franzo è il brasiliano c***o 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 Ovviamente avevo detto che erano due le diciose per Bonoro Come un bene comunque una volta mi chiuso Adesso aiuto, non zoomare Enzo Andiamo all'attacco di Bonoro E' perfetto Andiamo lì un altro attacco Bonoro Vai No, no Quindi Bonoro Dimmi quanto difesa abbiamo fatto Allora Bonoro Ha difeso tre volte e mi ha chiuso due volte Allora Bonoro ha difeso tre volte e mi ha chiuso Sto parlando io, riprendi a me Allora Bonoro ha difeso tre volte e mi ha chiuso due volte E Bonoro quante volte hai attaccato Ok Ha uno bonus e mi ha chiuso Cioè io l'ho chiuso tutte e tre volte Quindi attacco zero Difesa due Contro di me L'ho chiudito i gambe Non come il tuo madre Ma che adesso zoom il bambino E manca qualcosa no Il video dovrebbe finire qua Però buonora Non mi sembra ancora pro Non mi sembra ancora pro Cioè ci sono Gettori forti con me Manu il govone Elvis casa negara a Hiroshi Alessandro Fusco Hiroshi Sono quattro forti Vabbè c'è Mattia che No Poi c'è che si può qualificare Ah Comunque l'ho fattuto Off camera Tra due Un gol Un gol Ha giusto Poi c'aveva un Cristian Geroso Ti ha battito No L'hai battito Tutto qua Tra il terzo Ricordiamo Cristian Paccaccio Quindi Non so Non lo dovrebbe mai Sottovalutare Comunque ci sono Buoni E brutti giocatori Che si qualificheranno A pallone d'oro Waiu State attenti al canale Per capire Che usciranno video Paurosi E sempre forza Bologna Bologna E quindi vaiu Noi ci preghiamo Al prossimo video E vaiu Ciao